Perché ho realizzato ancora 50 portachiavi alpaca? Se vi ricordate, qualche mese fa avevo già realizzato altri portachiavi. Sono piaciuti tantissimo e quindi mi è stato chiesto di realizzarne altri. Se vi piacciono gli alpaca e volete vederli dal vivo, potete andare a conoscere Sven e Olaf. Li ho impacchettati in due scatole e sono pronti per raggiungere la loro destinazione. Non vedo l'ora che arrivino! E voi avete mai visto un'alpaca dal vivo? Scrivetemela nei commenti! Vi aspetto nel prossimo video!